Più che lascio il movimento, è il movimento che ha lasciato me. In questi dieci anni di attivismo, di lavoro intenso, non soltanto in Consiglio Comunale, ma anche per strada, tra i banchetti, tra le manifestazioni e gli eventi che abbiamo fatto, purtroppo ci siamo resi conto, chiedendo la certificazione di una lista che avevamo programmato in questi ultimi mesi, che è il movimento che non vuole noi, purtroppo. E quindi a questo punto abbiamo deciso di uscire noi, prima che ci abbandoni con un'espulsione, visto che abbiamo saputo di segnalazioni ai propri viri, da parte probabilmente di persone che non intendevano e non avevano a cuore la nostra partecipazione. Il 9 marzo noi ci siamo espressi in conferenza stampa raccontando quello che era accaduto durante questi giorni, questi giorni a cavallo tra il primo di marzo, cioè la presentazione della lista di Enrico Alessandrini, e quando noi abbiamo inviato la nostra lista. Purtroppo le regole che sono scritte su Open Comune, non le ho scritte io, dicevano che la certificazione aveva inizio il 15 novembre e aveva fine il 26 di marzo. Questo non è accaduto, cioè significa che il primo che ha inviato la lista è stato certificato, e ne prendiamo atto e a questo punto siamo noi che usciamo e non il movimento che ci caccia fuori, come prevedo a breve accadrà. Con una sua lista appoggerà la candidatura a sindaco di Pescara di Carlo Costantini? Non è una mia lista, aderiamo al programma di Carlo Costantini. Io, come avevo già detto il 9 di marzo, non ho fatto una lista civica, ma aderisco a un progetto che ritengo validissimo, anche perché addirittura un nostro consigliere regionale, Riccardo Mercanti, è stato il promotore della legge per l'unificazione dei comuni Pescara-Monte Silvone e Spoltore, e siamo comunque stati sempre a favore di questo referendum, e lo abbiamo ribadito quando c'è stata la Costituente in Consiglio Comunale, anche con un mio discorso.